Il Comitato di Quartiere Santa Maria delle Grazie, zona 167 a Lucera, ha scritto al signor Sindaco Antonio Tutolo, a seguito dell'Assemblea che si è tenuta in data 18 dicembre, infatti, preso atto dell'atto di indirizzo deliberato in Consiglio Comunale con cui veniva fornito atto di indirizzo alla delocalizzazione dell'intervento di costruzione della piazza di quartiere e delle palazzine di proprietà pubblica costituite da 26 alloggi, previa acquisizione di parere proveritate da parte del Comitato Paritetico Stato-Regioni e preso atto della nota del dirigente della sezione politiche abitative della Regione Puglia pervenuta al protocollo del Comune di Lucera con cui veniva fornito assenso alla delocalizzazione dell'intervento, chiede un incontro con tutti i consiglieri comunali, al fine di adottare ogni atto conseguente in linea alla richiamata deliberazione di Consiglio Comunale per dare corso alla delocalizzazione e impedire l'inizio dei lavori della piazza di quartiere e delle palazzine di proprietà pubblica costituite dai 26 alloggi nell'area originariamente individuata in visa alla popolazione residente nel quartiere.